Su, entra! Ciao, Mark. Siediti, figlio. Mi serve un avvocato. Per che cosa? Per difendere i miei diritti. Se non hai niente da nascondere, non ti serve un avvocato. Aveva visto abbastanza per essere un testimone. Jerome Clifford non era ancora morto quando l'hai trovato, vero, Mark? Lo sappiamo che eri in quella macchina, Mark. Aveva sentito abbastanza per essere un bersaglio. Se non rispondo alle vostre domande, devo andare in prigione. Può darsi. Hai ragione, ti serve un avvocato. Lei quanti casi ha già vinto? Ho perso di rado. E quanti soldi costa? Tu quanti soldi hai? Dallo scrittore best-seller John Grisham, autore dei Il Socio e il Rapporto Pelican, Il Cliente. Voglio quel ragazzo in aula sul banco dei testimoni in magnana. Mi sono spiegato? Mi stanno portando in prigione! Bel lavoro. Se si avvicina al mio cliente senza il mio permesso, denuncio lei e tutta l'FBI per violazione di diritti. Solo una cosa è più pericolosa che sapere la verità. Dobbiamo mettere le mani su quel ragazzino prima che ce le metta la malavita. Raccontarla. Se domani parli con l'FBI ti ammazzo. Perché dovrebbe parlare se non sappiamo proteggerlo? Non abbiamo già giocato abbastanza. Un uomo si è tolto la vita. E questo ragazzino continua ad accene. Qualche voto essere forti significa chiedere aiuto. Io non so niente. Susan Sarandon. Devi dirmi la verità. Il premio Oscar Tommy Lee Jones. Sta tentando di rovinare la vita di questo ragazzo o semplicemente di farlo uccidere. Ho paura. Il Cliente. Diretto da Joel Schumacher. Il Cliente.